pur ovviamente sempre nel massimo garantismo e questo lo ribadiamo fin d'ora, però Alberto partiamo, andiamo con ordine, raccontaci un po' cosa dice Romelu Lukaku perché è un'intervista e ci sono due passaggi che noi andiamo ad analizzare partendo da Istanbul che sicuramente farà molto discutere. Sì, ovviamente si parte dalla finale di Champions League che ha visto l'Inter perdere contro il Manchester City, comincia a fare intravedere qualcosa Romelu Lukaku, ha parlato dal ritiro della sua nazionale con la nazionale belga in programma nelle qualificazioni ai prossimi europei e chiaramente è stato interpellato su quello che era successo in finale di Champions con diverse occasioni anche da parte sua mancate. I primi giorni mi sentivo un po' a disagio ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti, ne parlerò più avanti, quindi comincia a far capire qualcosa però promette delle dichiarazioni successive parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati e chiaramente questo relativo poi a quella che è stata la sua estate un po' trubolata che ha visto Romelu Lukaku alla fine vestire la maglia della Roma. Sono state scritte tante cazzate, questo è quello che dice Lukaku sul mio conto, ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, 5 anni fa probabilmente lo avrei fatto. Sapevo perfettamente cosa sarebbe successo quest'estate, c'erano alcuni club in cui certamente non sarei andato e poi nuovamente la promessa di essere maggiormente esaustivo nelle prossime settimane, chissà se prima di Inter-Roma. Allora andiamo per ordine, sono due le grafiche, partiamo dal discorso Istanbul, chiedo all'interista Fierro ma che cosa sarà mai successo prima di Istanbul? Assolutamente niente. Andava in panchina? Ha capito che andava in panchina? L'ha così destabilizzata questa cosa? Andava in panchina perché in quel momento è vero che aveva fatto delle partite molto buone, però secondo lo schema di Inzaghi era giusto che giocasse Gecko, io avrei fatto giocare lui, però tutte queste cose che lui sta dicendo secondo me non stanno né in cielo né in terra, perché sta parlando che ha sbagliato la partita perché aveva delle turbolenze nella testa o chissà che cosa, ma allora andiamo a parlare, torniamo indietro, andiamo alla finale col Siviglia, cosa ha fatto col Siviglia? Che partita ha fatto? Ha salvato un gol, ha fatto il portiere, tutte queste cose che tiriamo fuori? Non è così e vogliamo tornare all'anno prima quando andò via, che il giorno prima era con la macchina scappottata con la bandiera dell'Inter, io amo Milano in piazza Duomo? Quindi attenzione ragazzi perché ormai la frittata l'ha fatta, vuole ricucire col pubblico nero-azzurro, ma lui ha tradito e questo tradimento noi glielo perdoniamo, adesso lui può dire quello che vuole, secondo me ha sbagliato in pieno, ora cerca di arrampicarsi sui vetri, ma non è così, perché come ripeto una persona che vince un campionato e si mette con una macchina cabriolet a fare quelle sceneggiate la mia squadra, il mio amore, l'Inter, quello che vuoi e poi il giorno dopo va in direzione Chelsea, poi ritorni e fai la stessa cosa, siamo i matti noi o sei matto tu? Per me sei matto tu e mi prendo responsabilità di quello che sto dicendo, quindi è inutile che ora esce con questa situazione perché l'Inter adesso sta preparando i 50 fischietti, quello che vuoi perché arriverà a San Siro, ci sta, ok? E lui già si sta preparando, parlerò più avanti, non è così. Però insomma Paolo, questa cosa di Istanbul incuriosisce quasi come se i gol falliti, insomma abbiamo in mente quello che è successo nella finale di Istanbul, fossero legati a particolari fatti capitati nei giorni prima, però buttata lì così nel mucchio non è che ha molto senso come cosa, no? Io oggi ho letto un'attenta ricostruzione fatta da Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport che tra l'altro conosco ed è un collega molto documentato in generale sull'Inter in particolare. Però leggendo attentamente la cosa sostanzialmente non esce nulla di scandaloso, di particolarmente grave che avrebbe subito Lukaku. Nella ricostruzione, vabbè, spiega semplicemente questa cronaca che lui aveva giocato titolare l'ultimo match di campionato col Torino, con la squadra già in Champions e poi era stato sostituito da Dzeko nel finale di partita. Poi quando la squadra aveva ripreso il lavoro alla Pinettina prima della finale lui aveva chiesto un giorno di riposo dove aveva fatto un lavoro personalizzato e poi spiega anche che non aveva avuto colloqui con Inzaghi o il suo staff ma che si poteva capire dagli allenamenti che probabilmente c'era qualche segnale che lui non avrebbe giocato la finale e poi di fatto non l'ha giocata. Però è una ricostruzione dove non c'è un episodio particolare che può aver scatenato, se non un ego molto smisurato di un giocatore che evidentemente nella narrazione, nel racconto di Ramazzotti, è credibile, cioè quando è tornato all'Inter lui pensava di avere il posto di titolare a prescindere, a parte che è stato infortunato tanto e quindi magari anche se l'avesse avuto quel posto l'ha perso strada facendo. E quindi io credo che se lui non racconterà cose particolari, è solo questione di un ego molto smisurato e ferito per aver fatto la riserva di Dzeko in Champions. Poi sono d'accordo con Thomas, probabilmente siccome è anche furbo e navigato, non è un ragazzino, magari sta preparando prova ad ammorbidire il clima che lo aspetterà il 29 ottobre a San Sì, non voglio dire, cosa vuol dire? Ero turbato, tu giochi una finale di Champions League e sbagli apposta, non credo. No, 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 voglio dire. Ero turbato, non ero lucido, non ero sereno. Però lui parla anche che non ha giocato una partita perfetta e quindi il gol che ha sbagliato secondo lui per la poca lucidità che aveva. È questo il discorso che ha fatto, così si toglie dalle responsabilità, ma non è così. Una finale di Champions League, ragazzi. Sai, se ci fosse stato qualcosa di particolare che lui racconterà, allora capiremo se è una cosa, ammesso che esista qualcosa di particolare, tale da poter mediamente scioccare una persona. Però può anche darsi che per uno come lui, per il suo ego, questa cosa di aver perso il posto da titolare, nelle coppe, soprattutto in finale, possa averlo scioccato, fra virgolette. E se tu sei in uno stato d'animo così disturbato, è chiaro che anche inconsciamente hai una perdita di energia e non giochi bene o la tua prestazione è inferiore. No, secondo me io, perché ovviamente il tifoso dell'Inter parla da tifoso ferito. Secondo me l'errore che ha fatto lui, Lukaku, cioè che è stata dettata dall'essere molto furbo, cioè evidentemente lui non voleva più tornare all'Inter. Poteva dirlo subito. Secondo me lui, lui, poi a un certo punto ha interrotto i rapporti con la dirigenza, ma lui avrebbe dovuto dire, non andate avanti nella trattativa con il Chelsea, perché io non voglio più tornarci. E io questa domanda me la sono fatta. E a degli operatori di mercato, anche a qualcuno che era interessato a Lukaku, perché sai che si è parlato di Milano, dico, ma come mai non... perché lui ha fatto la furbata, cioè lui prima ha voluto capire se avesse avuto delle altre squadre che lo cercavano. Quando ha avuto la certezza che c'erano altre squadre, è la Juve, stiamo parlando della Juve, perché gli arabi li ha rifiutati e lui con la Juve aveva un accordo. Anche se poi lui dice c'è una squadra in cui non sarei mai andato e molti ci hanno letto l'aiuto. Ma non è vero. E questo vi fa capire. Certo, e questo vi fa capire. Aveva un accordo, se le società avessero trovato un accordo. Anche Matteo sul discorso di Istanbul, come giudichi o giustifichi questa frase di Lukaku su Istanbul? Allora, secondo me qualcosa di vero c'è, perché comunque si sapeva dei contatti che c'erano stati con il Milan a marzo, se non sbaglio, era uscita poi la notizia del fatto che Lukaku avesse avuto, o meno, i suoi agenti avessero avuto dei contatti con il Milan. Sei turbato per una cosa che tu stessi hai fatto. Però aspetta, quella è una ricostruzione che ha fatto un giornale, cioè la Gazzetta, che non ha mai trovato riscontri e sembrava fatto un po' in quei giorni a caldo per mettere in cattiva luce Lukaku. Io non voglio difendere Lukaku, lungi da me nel difenderlo, però facciamo un attimo caso alle effettive partite giocate poi da Lukaku, da marzo in poi. Lukaku non parte mai titolare in nessun big match, mai. Né nei derby con il Milan di Champions League, non parte titolare in finale di Coppa Italia, non parte titolare in finale di Champions League. E' un caso? Cioè lui, se non sbaglio, col porto agli ottavi gioca titolare e poi segna anche il gol decisivo. E' un caso che lui da metà marzo non giochi più titolare nei big match? No, ma lui torna giocatore vero ad aprile, se non sbaglio. Però ad aprile e poi a maggio c'è la finale di Coppa Italia, lui non gioca titolare. Ma lui non fa un brutto finale di stagione. Lui fa un brutto finale di stagione. Ragazzi, a me Lukaku non fa impazzire, però lui fa un gran finale di stagione. Beh, nei numeri molto superiori a Dzeko, nei numeri dei gol e degli assi. Nel finale, nel finale sì. Ricordatevi che era molto divisiva la questione, chi fate giocare a Istanbul, Dzeko, Lukaku. C'erano quelli che dicevano, io ero dell'idea di far giocare Dzeko, ad esempio. Io Lukaku tutta la vita. Vedi? Io Lukaku tutta la vita. Io ero dell'idea di Dzeko. Ma no, perché Lukaku sta troppo bene per poterlo lasciare fuori. Fai giocare Lukaku dall'inizio e poi vedi come va. Io mi ricordo che c'era... Cioè, posto che Lautaro c'era. Chi metteci di fianco, mi ricordo che abbiamo fatto fior di trasmissione a dirci sta cosa qua. Ma infatti, a me è questa cosa, questa cosa che lui non parta mai titolare nei big match, e non è un caso, cioè lui non parte mai titolare in nessun... Con la Juventus in Coppa Italia, il famoso rigore alla fine, lui entra dopo. Cioè, lui nei big match non parte mai titolare. Però magari può essere l'inclinazione di Zaghi che dice si è fissato perché per come gira la squadra, avere Dzeko dall'inizio ti dà di più. Cioè, Dzeko, Milano, tutto quello che lui dice adesso non ha alcun senso. Cioè, non ha alcun senso logico. Siccome noi ad oggi non sappiamo se è realmente successo altro, stando ai fatti, cioè dobbiamo giudicare o meno, e io non lo giudico, se per uno come lui è così tanto offensivo, cioè non aver fatto una finale e aver fatto la riserva di Dzeko. Per me, magari, non lo è tanto, perché poi lui comunque è stato molto tempo infortunato. Però ci può stare che per uno come lui fosse stato offensivo. E questo non è criticabile, perché è una percezione personale. Ognuno ha il suo carattere, per l'amor di Dio, non è quello. Quello che è criticabile come correttezza, secondo me, è che lui ha fatto lavorare l'Inter col Chelsea, gli ha fatto fare un rilancio a 40 milioni per poi sparire. Ecco, quello è condannabile. Non che lui... Uno può anche offendersi se uno ti guarda male. Ripartiamo da lì perché ovviamente è la seconda parte delle dichiarazioni che abbiamo letto e quindi commentiamo poi anche, oltre che quello che è successo su Istanbul, anche la vicenda di quest'estate, proprio in base alle parole di Lukaku. Eccoci qui, tra poco apriamo il capitolo legato al caso scommesse con le novità di ieri, soprattutto quelle di oggi. Sono novità veramente molto, molto, molto importanti. Restiamo su Lukaku e la verità su Istanbul, perché abbiamo letto nella seconda parte delle dichiarazioni che ci ha letto il nostro Alberto, che parla invece non solo di Istanbul, ma anche di quello che è successo l'estate scorsa. Dice, se parlo, ecco queste qua, se dicessi davvero come sono andate le cose, sarebbe uno shock per tutti. Ma, eh... Cioè, qui gira un po' la frittata come se... Sosse lui la vittima inconscia e inconsapevole di qualcosa che... In realtà ha gestito lui per intero, credo. No, a meno che... A meno che lui... Voglia raccontare, ammesso che esista... Cioè, uno sgarbo, che non è solo quello dell'esclusione, ma un qualcosa che ritiene di aver subito dall'Inter, in modo tale da giustificare quello che è successo. C'è una cosa che nessuno sa. Sai perché io non credo a questo? Cosa sarà mai successo? Che l'Inter si rifiutava di riscattarlo dal Chelsea? No, Franci, perché sennò l'Inter l'avrebbe liquidato subito e non avrebbe venduto Gekko, l'avrebbe tenuto, e sarebbe andata su altre soluzioni. Vabbè, sai, tenuto doveva negoziarlo. Sì, però voglio dire, non avrebbe puntato su di lui. Quindi anche l'Inter è rimasta male di questa situazione. E quindi in 4-4-8 l'ha liquidato dal giorno al domani. Vabbè, quando... Dopo che lui non ha più risposto... Non ha più risposto, perché addirittura non ha risposto ai propri compagni, ragazzi. Quindi andiamo a analizzare anche le situazioni. C'è Barella che è nero, Lautaro che è nero, perché a un certo punto questo signore non risponde più al telefono neanche ai compagni di squadra. Questo si chiama maleducazione, perché la società è un conto e l'amicizia è un altro conto. Vivi in un gruppo, stavi bene, dicevi che l'hai il re, la tua famiglia stava bene, e allora c'è qualcosa di profondo, perché, come sappiamo bene, anche i procuratori ci mettono il loro zampino, perché avrà avuto sicuramente queste proposte da Milano, Juve, magari un po' più accentuate, e detto questo dice mangio anche io e quindi tu vai lì, punto e basta, come ha fatto Colcesse e i tempi. Questo è quanto, secondo me... Prima o poi ci racconterà quello che è successo a questo punto. Io penso che, veramente, Lukaku ci ha abituati a dichiarazioni particolari. Credo che esporsi così a quanto? Due settimane, tre settimane prima di Inter-Roma? Sì. Perché non l'ha fatto subito? Sarebbe assurdo raccontare l'ennesima. Matteo, se sei pulito con la tua coscienza parli subito, no? Questo sono d'accordo. Vi farò sapere. Questo sono d'accordo. Perché così è troppo semplice. Questo sono d'accordo. Ma, veramente, Lukaku è di nuovo davanti alle telecamere e di nuovo a prendere in giro altra gente? Mi sembra assurdo. Sì, invece sarà così. La fatto. Perché a quanto pare... E voi lo sapete bene. Post Scudetto è andato al Chelsea. Ma te l'ho detto prima, Matteo. La fatto a novembre col Chelsea. Di nuovo? Cioè, mi sembra assurdo. E si vede che, come diceva lui, il suo stato emotivo e la sua testa... Oh, il suo ego ferito. Il suo ego ferito porta a fare queste situazioni. Noi non possiamo entrare nel corpo delle persone e gestire... Certo. Però, se veramente avesse subito quello che lui dice sembra di aver subito una cosa sulla... Perché non dirlo subito? Ma che cosa? Ha ragione. Ha subito quando... Subire che cosa? È quello. In realtà noi abbiamo spesso detto che i primi contatti con il Milan sono di marzo. È quello, capisci? Sì, ma Francesco, stiamo parlando del nulla. Sì, ma non c'è certezza. Poi lui dice ci sono squadre in cui non sarei mai andato. Però Paolo ci dice ma come? Magari con la Juve ti sei... Dai, con la Juve... C'era il contatto. No, secondo me alla Juventus se fosse uscito Velaubic sarebbe andato. No, Paolo? Ce lo conferme. Se il Chelsea avesse dato il conguaglio di 40 milioni che voleva la Juve... Lui sarebbe andato. Sarebbe andato. Ma vogliamo parlare del trattamento della società Inter e dei tifosi dell'Inter nei confronti di questo signore? No, ma chiaro. Quindi di che cosa ti vuoi lamentare? Che eri un re eri un giocatore buono perché sei un grande giocatore e attualmente ancora e vedete con la Roma cosa sta facendo sette partite e sette gol fatti il giocatore calcisticamente non si discute però umanamente secondo me c'è qualche problema ragazzi perché a questo punto mi viene da pensare questo. È chiaro che ci sia qualcosa che non vada probabilmente nella sua testa senza essere cattivi però sembra veramente assurdo cioè davvero io non capisco con tutta la quintalata di roba che ti è arrivata addosso dopo determinate dichiarazioni di nuovo sei qua a fare dichiarazioni scottanti cioè mi sembra davvero magari c'è veramente qualcosa dietro che noi non sappiamo c'è veramente un trattamento magari è successo un litigio incredibile noi non lo sappiamo però mi sembra veramente assurdo di nuovo qua a parlare cosa siamo a metà ottobre di un giocatore che è arrivato a luglio inoltrato agosto inoltrato alla Roma e di nuovo vuol far parlare di sé con delle dichiarazioni assurde e non ci credo guarda caso ho una settimana a due da Inter Roma sai che deve venire a San Siro oggi la curva a nord dell'Inter ha espresso un comunicato dicendo insomma se hai coraggio vieni a San Siro a noi non interessa quello che dici ci saranno questi famosi 50.000 in realtà saranno più fischietti insomma il 29 di ottobre mi pare sia noi Inter Roma tra due settimane deve essere Francesco una contestazione civile umana deve essere questo perché se no però sarà molto dura questo ci sono ma cosa si aspetta c'è nel senso si aspettava ma non credo che Donnarumma San Siro in Milan Paris Saint Germain riceverà sempre nei crismi della civiltà non ci mancherebbe mai trascendere però insomma se stanno preparando 50.000 fischietti a distribuire ai sostenitori voi potete immaginare che cosa sarà quello che girava sui social relativamente a Donnarumma è che possono esserci al posto di fischietti dollari sì però voglio dire venne chiamato anche Donnarumma sarà comunque una cosa di impatto forte in ogni caso questo è naturale quello che dico io e lui cosa si aspettava con queste parole di ammorbidire non capisco cioè qual è l'obiettivo se queste parole non sono reali qual è il suo obiettivo cioè cosa vuole fare Luca vuole uscirne pulito come fa a uscirne pulito lo so ma secondo lui lui non ha sbagliato nulla invece ha fatto il furbo insieme al suo procuratore andare a contattare altre squadre dopo che l'Inter e i tuoi tifosi ti stanno amando alla follia questo è se io ti parlo da tifoso del Inter no no su un sentimento aspetta su un sentimento dei tifosi dell'Inter nessuno cioè nessuno critica il sentimento ma bisogna scendere ho capito mi sembra assurdo ma nel calcio professionistico cioè bisogna scendere perfetto allora non parlare perfetto dalle scelte professionali facciamo come Heidi va bene Paolo però allora non fare non fare certe dichiarazioni che sei innamorato di questa città e non prendere in giro la gente lui io te l'ho detto è inutile girarci intorno lui intanto era tornato al Chelsea no? giusto? era un giocatore del Chelsea non era più un giocatore dell'Inter chiaramente sapeva e l'Inter lo stava facendo lo stava trattando per farlo tornare ok? stava trattando il prezzo io te l'ho detto cioè l'unica cosa che gli puoi imputare è che non abbia avvisato l'Inter è preso in giro ma non che lui cioè perché secondo me era un suo diritto come diritto di tutti i giocatori di fare le scelte professionali che vogliono però non prendere in giro la gente cioè non era neanche fare l'Inter sì ma non eizzare non eizzare non mettere fuoco quello che dice Paolo per me Paolo ha ragione il giocatore è libero è libero il resto sono chiaro i fatti sono che lui è tornato al Chelsea ok? certo dal Chelsea lui era libero di andare dove voleva è tornato al Chelsea io non lo so cioè lui cosa racconterà se racconterà qualcosa io sono d'accordo con te Paolo però io quello che non capisco perché continui a dire io voglio stare all'Inter io amo l'Inter io da qua non me ne voglio andare questo è sbagliato Paolo quello è un peccato Thomas è arrivato a Ciampino già si toccava il perché non è l'unico ma quello è un peccato veniale è una cosa che fa quello è un peccato veniale che certi giocatori fanno io per come sono fatto non lo farei mai perché trovo che siano robe un po' ipocrite no? ma anche Tonali cosa aveva detto Tonali? va bene che si vedeva bandiera del Milan eccetera poi di fronte a certe proposte tu fai una scelta ma voglio dire ma è diritto di ognuno di fare delle scelte ma ci mancherebbe è diritto dei tifosi essere offesi e arrabbiati però un professionista scusa anche Donnarumma è riscadenza non ha rinnovato se hai scelto un'altra squadra no no ci mancherebbe no? ragazzi prendiamoci due minuti diamo la linea alla regia poi entriamo nel vivo della nostra puntata tra poco i nomi che sono stati fatti questo pomeriggio da Fabrizio Corona entriamo un po' nel tema caldo che sta caratterizzando queste giornate del calcio italiano che pur senza campionato non si sta davvero facendo mancare niente due minuti siamo conto adesso va bene stiamo entrando proprio nel clou arrivi proprio quando stiamo per sfornare il piatto forte perché qui bisogna fare un po' il punto della situazione dal nostro titolo Alberto già vediamo quali sono stati dopo Fagioli i due nomi che sono stati resi pubblici oggi da Fabrizio Corona attraverso i suoi canali social il sito eccetera abbiamo anche una schermata tra proposito relativamente a quelli che sono stati i nomi che un po' erano stati anticipati anche senza farli chiaramente nel corso della puntata di ieri di Diretta Mercato non da da noi da parte di Fabrizio Corona ovvero quelli di Nicolo Zagnolo e Sandro Tonali ci sono degli aggiornamenti il tan senso intanto possiamo vedere la schermata relativa a quella che la notizia pubblicata proprio su Dilinger News che è questo portale che fa capo a Fabrizio Corona e arrivano degli aggiornamenti anche rispetto a quello che è successo direttamente con Sandro Tonali e Nicolo Zagnolo perché proprio nel tardo pomeriggio di oggi la Procura della Repubblica di Torino ha notificato degli atti di indagine ai due calciatori che erano presenti a Coverciano insieme alla Nazione Italiana pronti per disputare le gare di qualificazione ai prossimi europei e c'è anche un comunicato ufficiale da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio a prescindere dalla natura degli atti ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni la Federazione ha deciso anche a tutela degli stessi di consentirne il rientro presso i rispettivi club dunque non saranno più a disposizione nei prossimi giorni della Nazionale Italiana hanno colloquiato accompagnati da Gigi Buffon sappiamo essere ormai entrato nella parte dello staff azzurro da alcune settimane infatti Gigi fa l'autista lo mandano a prendere giocatori sì c'è stato questo colloquio con le forze dell'ordine con Tonali e con Zaniolo per venire un po' per cercare di mettere un po' chiarezza a quello che era già emerso nella tarda serata di ieri che poi oggi ha avuto i crismi dell'ufficialità allora ribadiamo sempre totale garantismo di fronte a questo genere di cose quindi si parla solo di indagini non si parla di imputazioni di nessun tipo sta lavorando la procura della Repubblica di Torino l'altra cosa essenziale è che noi abbiamo citato Fabrizio Corona che parla in nome per conto suo quindi sarebbero coinvolti questi giocatori a cui sono stati notificati gli atti di indagine nella giornata di oggi come persona formata sui fatti Fabrizio Corona è stato chiamato in quest'ora a Milano tutto puntualmente specificato attraverso una serie di storie ormai sui social si sa la diretta di tutti però insomma dopo Fagioli gli altri due nomi e non sarebbero gli ultimi perché lui dice di essere pronto piano piano anche settimana prossima a sfornare a raccontare altri retroscena di questo caso scommesse gli ultimi due nomi sono Tonali Zanio che lasciano il ritiro della nazionale poi c'è una coincidenza no dico c'è una coincidenza un po' inquietante però che andrebbe letta tra le dichiarazioni di Corona ieri e la presenza delle forze dell'ordine oggi a Coverciano cioè perché questo tempismo perché proprio oggi e ieri le dichiarazioni di Corona cioè è una cosa strana cioè allora è chiaro che c'erano degli atti di indagine evidentemente della procura di Torino che andavano avanti da tempo perché Fagioli già in estate era stato informato ed evidentemente era conoscenza e nera conoscenza a Corona ma come mai Zagnolo e Tonali sono stati sentiti proprio oggi solo per comodità perché erano in Italia a Coverciano possiamo dire possiamo dire una cosa che riguarda il calcio perché il calcio fa è un'enfasi è un'enfasi che scuote le folle praticamente tutto quello che arriva nel calcio viene a dismisura portato avanti in una certa maniera per cui la cosa migliore per far vedere praticamente che ci presenta la forza pubblica era di Coverciano e a Coverciano sono andato c'è da dire anche una cosa Luciano che stamattina è stato interrogato Corona ma sì per le dichiarazioni che ha fatto tutto vero queste dichiarazioni Luciano hanno portato nel pomeriggio in tarda serata ad andare a Coverciano tutto vero però le sceneggiate le sceneggiate calcistiche sono sempre state abbastanza evidenti guarda l'invasione che hanno fatto con gli arbitri a Coverciano quanti sono stati condannati di armi nessuno quindi voglio dire però è stata eclatante quella cosa che praticamente ne ha parlato tutto il mondo e questo è quello che vogliono non dice una cosa sbagliata tra Corona che dice anche Zaniolo e Tonali scommettono e la notifica gli altri a Coverciano c'è il passaggio di Corona in questura sì ma vanno subito su delega del ministero di Torino ma poi Francesco c'è un'altra cosa importante l'attendibilità del soggetto no no ma per carità questo è tutto da verificare tutto da verificare lui dice di avere prove documentali che poi fornirà chi di dovere però attenzione da quello che stiamo leggendo sembra che comunque insieme a Fagioli in quel filone di inchiesta sulle scommesse su questa piattaforma o piattaforme illegali ci fossero anche i nomi di Zaniolo e Tonali perché se no le forze dell'ordine è vero che oggi a Milano hanno sentito Corona no? hanno sentito Corona ma non è che le forze dell'ordine fino a ieri sera prima che parlasse Corona non sapessero non conoscessero i nomi di Zaniolo e Tonali perché è un'inchiesta della procura di Torino e le inchieste vengono fatte dalla polizia giudiziaria che dopo presenta gli atti quindi non è che hanno sentito Corona diciamo magari ha fatto delle dichiarazioni talmente in fretta Coverciano e la realtà è questa io penso che sia più come dice Luciano cioè l'effetto scenico mediatico però voglio dire ieri sera Fabrizio a che pro che cosa ci guadagna a far entrare e far arrivare ma scusa ma tu poi avete visto Francesco ma voi avete visto la lotta che c'è stata per avere calciope il processo di calciope a Napoli perché a che pro perché poteva andare da un'altra parte la giustizia è uguale per tutti da tutte le parti hanno voluto per forza di cose farla a Napoli ci sarà un motivo l'ambizione delle procure l'ambizione dei legali quando le cose sono grosse cioè c'è gente che la lasciano morire in mezzo alla strada e su certi si attivano però non è che oggi Corona ha detto delle cose che hanno scaturito la visita della Polizia questo non lo sappiamo noi Paolo magari ha dato delle fonti ben certe per arrivare in tarda serata lì da loro può succedere ma quei nomi sono dentro l'inchiesta però Paolo dice li sapevano già perché farlo proprio oggi che lui tira fuori quei nomi sono dentro all'inchiesta a meno che loro non volessero no ma basta magari cercavano la conferma non lo so o magari che conferma ma loro scusami ma loro cioè se se le forze dell'ordine fanno un'investigazione in questo caso sulle scommesse di piattaformi illegali ma hanno talmente tanti strumenti tecnologici che voglio dire ci arrivano attraverso incrociando i server ma perché proprio oggi se lo sapevano già perché proprio oggi si sono presentati però ieri sera Fabrizio i tuoi nomi non li aveva fatti ragazzi scusatela ma lui lo sa lo sa dalle fonti ma a me non lo sa dall'inchiesta non è l'inchiesta che lo sa da corona ragazzi ragazzi scusate ma a me non sembra il problema fondamentale lui ha detto che delle fonti ben chiare ma le fonti stanno lì dentro chi sono le fonti ma scusami non è che però come dire il fatto che lui sia stato chiamato inquestura a Milano come persona informata sui fatti probabilmente non so cosa succede in questi casi che cosa gli si chiede no come lo sai aspetta lui ha dato una notizia di reato fino al momento evidentemente secretata e magari loro volevano sapere come ci è arrivato ma non è che loro nel giro di 0 ore 12 ore sentono colora che parla potrebbero farlo anche con un giorno di ritardo perché era la stessa cosa eh sì oppure con mesi antichi ma chi non conosce queste cose no l'ha detto lui e secondo me dice Luciano che sia una cosa mediatica secondo te io personalmente purtroppo conosco molto queste cose ho fatto l'esempio della lotta che c'è stata per avere un processo a Napoli anziché a Torino e questo qui vi dovrebbe mettere in chiaro queste cose qua e poi soprattutto attenzione voi guardate i docufilm che sono stati fatti su quel sul fatto di Calciopoli eh addirittura fanno gli attori Auricchio e il PM Narducci per disinformare praticamente poi è venuto fuori tutto un qualcosa di diverso perché adesso ti dico così capisci subito tutto inizia quel processo sai come inizia piaccia o non piaccia non ci sono telefonate delle altre società sai quante ce ne sono avvalanghe e sai perché quando sono stati chiamati dal report o adesso da Tele Lombardia che sta facendo questa cosa qua non ci sono presentati perché non sanno rispondere a queste domande questo è quello che praticamente purtroppo siamo di fronte a cose di questo tipo quindi vuoi dire che è una cosa mediatica Luciano questa è una cosa mediatica soprattutto c'è la nazionale adesso il ballo che deve giocare una partita fondamentale è ragione Paolo mediatica e ballo sì sì io non metto in dubbio la serietà dell'indagine questa è un'altra cosa no ma nel senso dai se uno scommette su piattaforme illegali e ci sono delle indagini e chiaramente ci casca dentro e non credo tanto è vero che è un'indagine civile non c'entra cioè la la giustizia sportiva arriverà dopo sì sì verrà attivata in quanto Fagioli una volta sentito e coinvolto dalla giustizia penale ha informato la procura federale ed era stato sentito che i suoi avvocati hanno detto si è autodenunciato ma tanto poi gli atti sarebbero arrivati uguali 30 agosto però io dico questa cosa cioè che Corona parla in tv e il giorno dopo questi vanno con un effetto scenico pazzesco vanno a Coverciana la testa della cosa non torna ma no ma perché tecnicamente è impossibile che questi si siano attivati sentendo l'informazione da Corona cioè qui ci sono delle cose negli atti della procura almeno leggevo io non so se Gian Bruno sta guardando anche delle cose che escono però da quello che ho capito io è quell'inchiesta della procura di Torino dove c'è di mezzo Pagioli e sembrano che su quelle piattaforme lì allora abbiamo nominato tanto Fabrizio Corona e questo giocatore secondo sempre quanto riportato da Fabrizio Corona sarebbe proprio Niccolò Zaniolo che avrebbe scommesso mentre stava in panchina in una partita di Coppa Italia della Roma lui era in panchina ma è questa la cosa da secondo me è questa la cosa per concentrarsi non sul fatto che oggi siano arrivate le forze di loro cioè il problema grave è questo no no un momento Paolo intendeva un'altra cosa io darei rilevanza a questa cosa non mi hai capito quello è un effetto sceglivo è ovvio che quello è rilevante no è chiaro mi facciamo una domanda no no ma la tua domanda era legittima adesso devo entrare nel dettaglio a parte il fatto che Corona dice che la vista è lunghissima ma scusa ma se questo qui sta nell'inchiesta questa cosa è inutile che praticamente la venga a dire Corona o meglio Corona ha detto cose che non sapevano altri che ci sia un effetto abbastanza importante su uno che sta in panchina su questo non c'è dubbio ma era già acclarato da chi faceva l'inchiesta questa cosa qua l'effetto scenico no l'effetto scenico ci dovrebbe essere però questi nomi li poteva fare anche ieri sera li fa stamattina ma questo domandate la Corona giustamente lui fa il suo lavoro Luciano prego lui fa il suo lavoro segue una testata giornalistica e quindi mettere notizia come deve ma vedi io sono un po' particolare quando tu praticamente ricevi delle notizie di questo tipo e guardi praticamente l'indagine che c'è non c'è bisogno di Corona sì sì no cioè Corona è pubblico ed è questo l'effetto scenico che porta avanti che però sta avendo perché oggettivamente sono due giorni che non parliamo d'altro ma è quello che si cerca in tutte le manifestazioni più una cosa importante il calcio è importantissimo e più c'è l'effetto scenico Matteo rimaneva sconvolto al fatto che ci sia un giocatore verosimilmente Zanialo che avrebbe scommesso mentre stava in panchina io capisco io capisco che l'effetto scenico sia clamoroso sono d'accordo ma parliamo prima di quello che succede poi dopo parliamo dell'effetto scenico sono d'accordo ragazzi ma stiamo parlando di un giocatore stiamo parlando di un calciatore che durante una partita è acclarato così sembra sembra che possa essere vero poi aspettiamo e vediamo se effettivamente è vero o no intanto cominciamo col dire aspettiamo aspettiamo però intanto c'è questo c'è questa supposizione giusto ragazzi se dovesse essere confermata è una cosa assurda è assurdo poi tutta la roba mediatica che c'è dietro per me viene dopo per me viene dopo c'è la cosa sulla quale ci si deve concentrare è che c'è anche soltanto a livello di probabilità di possibilità che ci sia una roba allora io ti devo fare una domanda visto considerato gli atti dell'indagine perché non ci andavano il giorno prima non c'era mica bisogno delle dichiarazioni di corona ma a me a me a me non interessa sono due livelli di discussione scusami scusami non stai capendo una cosa stiamo confondendo le cose però ragazzi cioè tu non è scusa tu chiunque in questo caso tu non hai capito il ragionamento è ovvio che la gravità è il reato è la notizia che si si ma ma io sto parlando ho capito il tuo ragionamento però ma lui non l'ha capito ho detto no secondo me l'ha capito ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito il cortocircuito di comunicazione e degli inquirenti però Paolo perdonami questo resta una cosa a contorno no questa è una situazione ma che scoperta quindi ma perché adesso concentriamoci sui fatti e quindi in questo momento è il concetto è la prima cosa che dico in questo momento ci ha detto Alberto che comunque questi due giocatori sono stati mandati via dal nazionale perché non sereni non tranquilli perché è ovvio è ovvio che uno si scandalizza di fronte alla notizia del reato ma cosa devo dire che mi scandalizzo è ovvio è banale ci sono dei giocatori che scommetano cosa devo dire devo fare la verginella e dire oh ma che scandalo ma davvero ma è ovvio cioè io sto cercando di ricostruire sì ma l'abbiamo fatto c'è l'altra analisi perché comunque anche anche gli inquirenti a Coverciano secondo me in modo così vistoso nel giorno del raduno della nazionale hanno creato un danno d'immagine è un cortocircuito pazzesco ai due giocatori che potevano essere sentiti in sedi a partate lontano dei miglia hai capito ma vogliamo andare ma vogliamo andare anche oltre eh beh ma ci vuole tanto a capire ma vogliamo andare anche oltre scusate ma io ho capito io sto dicendo che questo non è il fulcro scusami ma stai dicendo però stai dicendo una banalità che non è il fulcro è ovvio quando fanno le trasmissioni ma allora è ovvio scusami quando fanno le trasmissioni di nera e discutono di un omicidio allora nessuno deve parlare perché la notizia è l'omicidio ma è ovvio che l'omicidio è la notizia della roba grave ma costruisci tutto una un filo intorno a quello è un talk di cosa parliamo di questo l'abbiamo capito l'abbiamo già l'abbiamo già un pallausso però eh sì adesso non c'è perché se no continuiamo secondo Mosconi niente secondo Mosconi l'abbiamo capito perfettamente l'abbiamo capito perfettamente cosa intendi tu cosa intende Luciano e cosa intende Matteo l'abbiamo capito perfettamente l'abbiamo capito perfettamente l'abbiamo capito perfettamente ha detto che c'è questo effetto scenico che voi avete giustamente sottolineato ma scusa una parola ma non era meglio se non le facevano convocare visto che nell'atto di indagine ci sta tutto quello che ha detto Corona forse era meglio no e non c'era tutto quest'atto qua ma sì perché devono uscire esatto però avrebbe comunque creato sorpresa al fatto che Zagnoli e Torani non sarebbero nati ma io dico che le inchieste vanno avanti ugualmente ovviamente no cioè non è che c'è bisogno di Corona certo perché Corona ha avuto degli atti evidentemente probabilmente ha avuto degli atti perché sennò come fa a sapere se infatti le ha detto qualcuno di queste cose magari perché non può avere delle fonti o la procura o i cancellieri di solito escono da quelle fonti lì no cioè voglio dire è il motivo per cui escono ci sarà ecco voglio dire non è una bella cosa che si è stati sentiti oggi con questo tempismo in modo così boh non lo so cioè capito noi non sappiamo se sono stati in realtà no Alberto non abbiamo ma io mi ponevo un interrogatorio si parla di interrogatorio ma in realtà non è vero cioè sarebbero stati semplicemente notificati gli atti di indagine la notificazione esatto è corretto dire certo ma devi notificargli con una cosa ma eh non li hanno ancora interrogati di mandare sì ma devi notificargli proprio lì in favore di fotografica ma io non esco a livello di tempismo non ho dubbi sul fatto che questa cosa che giustamente avete tirato fuori è certamente un'anomalia un'incongruenza e una particolarità su questo siamo perfettamente d'accordo Francesco volevo adesso andare però un attimo più nel dettaglio per capire scusami Francesco aggiungo una cosa c'è un altro effetto un altro riverbero su questo tempismo che a me suona strano perché così hai costretto la federazione a mandare a casa i ragazzi e sicuramente Spalletti non è molto contento io mi chiedo se avessero notificato ai due prima in altre sedi eccetera eccetera probabilmente non sarebbero stati nemmeno convocati a sto giro e non sarebbero stati fare tutto il casino perché comunque è una roba che può anche influire sulla serenità della nazionale eccetera infatti tra le varie cose che dobbiamo discutere c'è anche questo aspetto perché noi comunque diamo ben scontato che la nazionale vada avanti però obiettivamente hai due tuoi compagni di squadra che prendono e sono autorizzati a tornare a casa perché evidentemente come dice la feder calcio non sono sufficientemente sereni perché è una roba che ci sta che umanamente sta cominciando anche a circolare lì nell'ambiente la voce che i due possono essere sostituiti nelle prossime ore è verosimile perché comunque all'atto pratico ci sono due partite da giocare perdi due centrocampisti adesso poi noi ci occupiamo di calcio e lì ti mancano due giocatori e che giocatori voglio dire due che magari avrebbero giocato anche i titolari a Malta e a Wembley quindi non lo so altre reazioni cose che hai captato in giro Alberto? Sì arrivano le parole del ministro dello sport Andrea Bodi a margine del festival dello sport di Trento c'è una partita ancora più decisiva rispetto a quella che ci attende in campo e quella della correttezza dei comportamenti tenendo conto che non è un problema calcistico ma una patologia sociale la ludopatia questo è chiaramente è stato interpellato anche sui nomi fatti in tarda serata ma il riferimento è puramente anche a quello di Nicolo Fagioli che ricordiamo si era autodenunciato nel corso del 30 agosto scorso sembrerebbe appunto per una situazione di questo tipo si è autodenunciato alla procura della Repubblica della Federcaccio l'altro argomento che ci riguarda è l'Inter inizia un ciclo di ferro perché Alberto? perché perché sì si comincia intanto dal 21 di ottobre con una trasferta molto delicata che è quella allo stadio olimpico grande Torino contro i Granata di Iuric che non stanno passando un momento particolarmente felice sono riduci dal derby di Torino perso contro la Juventus insomma anche lì si deve registrare qualcosa e chiaramente l'Inter dovrà ripartire dal campionato e poi c'è questo trittico di partite piuttosto interessante intanto in Champions League col Salisburgo il 24 di ottobre e poi il 29 ottobre è una data che i tifosi dell'Inter conoscono molto bene si sono già dati appuntamento per San Siro con un fischietto in bocca parliamo di Inter-Roma e parliamo chiaramente di Romelu Lukaku pochi giorni dopo si è andato al Gavi Stadium di Bergamo contro l'Atalanta e prima della nuova sosta per la nazionale ci sarà il ritorno della gara di Champions League contro il Salisburgo quindi la quarta giornata del girone di Champions League e poi un impegno in altri tempi probabilmente avremmo detto abbordabile contro il Frosinone ma una delle rivelazioni del campionato è l'Inter che a San Siro contro squadre relativamente abbordabili ha lasciato già dei punti vedi Sassuolo vedi Bologna questa partita chiaramente può suonare come un campanello d'allarme a pochi giorni poi dalla pausa per la nuova sosta della nazionale si ritornerà poi dall'impegno della squadra di Spalletti di novembre con la partitissima col derby d'Italia Juventus-Inter al 26 di novembre tre giorni dopo si va a Lisbona al Dalus vedo vedo la Bico Mosconi che sorride che si sfrega le mani visto che ha visto il suo calendario possiamo dire finalmente dopo aver giocato contro le squadre di bassa classifica finalmente entriamo nel circolo vizioso di quelle grosse perché ti va bene che abbiamo un allenatore in panchina che non capisce nulla perché sennò avevamo già preso il volo l'anno scorso era il migliore stai parlando con quello che in finale l'ha credito nonostante tutto questo è vero è arrivato in finale ora li sento tutti vicino come mai tutte le persone sono vicino a me io non ho capito scusa ma fino a una settimana fa era il migliore allenatore per gli altri non per me perché io sai come la penso di Simone Inzaghi lo sai benissimo con tutto il rispetto però secondo me è un allenatore eppure io vedo ancora l'Inter vincente del campionato no ma infatti ma sono accorto è proprio l'ha già vinto secondo te perché meriti di questo allenatore o perché abbiamo due squadre e abbiamo fior fior di giocatori no io per l'entourage praticamente guardo il gruppo giocatore guardo tutto e guardo anche la società perché l'anno scorso io sono abbastanza amico con Beppe Marotta l'anno scorso praticamente abbiamo parlato di queste cose e qua dal momento in cui Beppe Marotta ha cominciato ad andare a seguire gli allenamenti a stare vicino all'allenatore è migliorata la situazione è migliorata la situazione adesso probabilmente ricomincerà in questo senso qua perché l'allenatore ha bisogno di protezione può darci oh ma attenzione non ci sono non ci sono subito dopo un pareggio gli allenatori praticamente sono fatti di due specie chi sa colloquiare a carisma e chi è bravo a fare l'allenatore ma non ha praticamente il senso del comando bravo secondo te va bene per l'intro questo può essere supportato oh io ho vinto un campionato con bigon a Napoli non ha più allenato nessuno e l'allenatore quasi quasi l'ho fatto io bravo mi sei risposto da solo ci vuole praticamente la società che supporta perché attenzione un allenatore è tanto più forte quanto ha più forte lo rende più forte la società nello spogliato quello si però quali sono gli errori che tu input a Simon Zay in questo momento la domanda che gli volevo fare bravo la domanda che gli volevo fare sono tre anni che io vedo sempre le stesse cose no no lascia perdere tre anni quest'anno perché l'anno scorso comunque sei arrivato allora ti faccio un esempio di domenica c'è più se lì che sei arrivato in finale di Istanbul secondo me per merito dei giocatori che abbiamo dei giocatori formidabili questo è il mio punto di vista quest'anno non puoi fare 2-0 con il Bologna in 10 minuti hai chiuso la pratica fare 2-2 togliermi una punta e mettermi un'altra punta io non lo accetto preferisco che in casa a San Siro davanti ai tifosi davanti a 80.000 spettatori rischia un po' di più come ti dicevo che Bioli sullo 0-0 fa un 4-2-4 allungando i due esterni perché sullo 0-0 voleva vincere la partita o la vince o la perde però è stato bravo ha avuto coraggio lui il coraggio non ce l'ha ragazzi è limitato sei d'accordo Luciano con me? ma infatti ti ho detto precedentemente che ci sono degli allenatori che sono bravi anche a farlo ma non hanno il coraggio di metterlo in evidenza adesso con un Bologna con tutto il rispetto del Bologna può venire a San Siro in 5 minuti fa 2-2 e l'Inter ha 60 minuti davanti non riesce a ribattere la partita il recupero sono d'accordo con te ma che il Bologna sia una buona squadra su questo non c'è però Luciano se tu in un minuto e 50 secondi fai due gol non dico che la partita l'ha impacchettata ma io sono d'accordo su quello che dice Thomas attenzione però ecco vedo in ancora e trovo è rimasto giocatore bravo questo è bravo Luciano ma meno male che la pensa qualcuno come è perché ogni volta che si parla in Zaghi tutti mi aggrediscono io ho la mia opinione questa cosa qua che tu hai detto della partita del Bologna per me è verissima cioè nel senso lì era la partita dove lui doveva rischiare qualcosa non potevi mettere però non lo scopri oggi lo sai che è così appena è arrivato sai che in Zaghi io avrei messo ti dico la verità centrale per centrale avrei lasciato ammonito avrei lasciato avrei lasciato tu Ram e avrei giocato col trequartista di Sanchez dietro le due punti anch'io anch'io ho dato la mia opinione forse gli puoi gli puoi imputare una prevedibilità incredibile a livello di cambi e un modulo che non cambia mai è molto tematico è sempre lo stesso all'amento perché lui lì nel post partita era imbuffalito ma ha continuato a parlare di quello che era successo prima sugli errori dei due gol però non si è messo in discussione cioè non ha parlato ha dato più la colpa ha dato la colpa a Sommer per il gol subito che ci sta ma anche i due difensori che sono ok però lui effettivamente tu hai ragione Paola a dire lui non cambia mai il suo modus operandi il suo pensiero ma infatti va messo va messo tra quelli che hanno contribuito al parigi del Bologna si si ma infatti lui ha ragione ha ragione secondo me però lui come allenatore non si mette mai in discussione questa cosa è vera e vi dico di più io mi sono molto arrabbiato con Pioli perché il Bologna ha capito come giocare con l'Inter il Sassuolo l'ha capito è possibile che non abbia capito solo Pioli e va sul discorso Milan-Inter siamo tutti qua a dire che è leggibile Pioli che perde 5 derby di fila allo stesso modo dovremmo aprire un capitolo anche dal punto di vista psicologico sull'approccio del Milan soprattutto psicologico insomma questo ovviamente lo vedremo da capire adesso se Simoninzaghi farà i correttivi che tutti si augurano e che se ritroverà anche Arnautovic perché comunque io non me li auguro ma poi si poteva inventare io non me li auguro i correttivi spero Francesco Pioli no Simoninzaghi no no scuri Pioli si poteva anche inventare Mkhitaryan un po' più avanti ci sono tante soluzioni lui ce le ha tutti i giorni sul campo anche un po' più di un quarto d'ora Lucia lo ride Lucia lo ride ma non lo fa ma perché è così per il 352 il 352 diventerebbe 3-4-1-2 Mkhitaryan per caratteristiche è proprio bravo siamo in chiusura grazie